Il decreto Abruzzo, come è noto, ha prorogato fino al gennaio 2009 il pagamento delle rate dei mutui a chi è stato vittima del terremoto. Ora però alcune banche chiedono gli interessi sulle rate sospese. Del caso se ne occupa da mesi Gian Nicolangelo, rappresentante del Comitato Nazionale Consumatori Utenti presso l'Osservatorio Regionale sul Credito, che mette in guardia che possono verificarsi abusi e in casi estremi si può configurare anche il reato di usura. L'emergenza del terremoto ha fatto sì che molti hanno perso la casa, molti hanno perso il lavoro, però non hanno perso il mutuo, per cui hanno il mutuo ancora in piedi e abbiamo avuto delle segnalazioni purtroppo sporadiche ma significative di richieste alquanto esose di interessi su queste rate. Addirittura a qualche cittadino, a qualche consumatore è stato proposto di sottoscrivere un finanziamento per pagare gli interessi sulle rate prorogate. Per agire e tutelare i cittadini terremotati, l'Osservatorio Regionale sul Credito ha bisogno però della collaborazione dei diretti interessati, anche in forma rigorosamente anonima. Basta scrivere all'indirizzo email g-colangelo-iau.it Se a me arrivano delle segnalazioni dettagliate è possibile risolvere o affrontare queste patologie. Dovrebbe scrivere una mail, il mio indirizzo email è g-colangelo-iau.it Ovviamente sarà assicurato il massimo della privacy.